Un Babbo Natale speciale, quello che si è recato questa mattina in visita ai bambini e ai ragazzi dell'Istituto di Agazzi alle porte di Arezzo, nella struttura futurabile di Via Chiarini e presso il centro riabilitativo. È ormai un appuntamento atteso, quello con i Vigili del Fuoco di Arezzo, che ogni anno portano allegria e doni nelle strutture sanitarie aretine. Armati di regali per i più piccoli e materiale utile alle varie strutture, donati proprio dai Vigili del Fuoco, questi eroi, abituati a lottare con le fiamme e ad affrontare ogni giorno una nuova emergenza, hanno mostrato la loro parte più tenera e la loro voglia di portare un sorriso. E quindi via le divise per un giorno sono diventati gli eroi di questi bimbi e delle loro famiglie nei panni di Babbo Natale.